Si chiama Luce, la suggestiva mostra d'arte contemporanea inaugurata sabato scorso. A Pescara, in tre sale del Museo delle Genti d'Abruzzo, il fotografo Giulio Gennari traccia un percorso di forme e suggestioni, disegnando appunto con la luce. Al primo livello della mostra, protagonista è la questione di genere. Tante delle opere riguardano appunto la violenza sulle donne, insomma, è tutto quello che ovviamente si fa per comunicare e dare ovviamente un'opportunità a chi non ha voce appunto di farlo. Nella seconda sala la fotografia si sovrappone ai colori acrilici in un percorso legato agli artisti contemporanei. Un effetto tridimensionale dell'opera stessa perché anche il fruitore può installarla a piacimento e crearne ovviamente una grande interpretazione, in ogni caso un'interpretazione diversa. Infine ci si imbatte in figure più delineate in cui si riconoscono personaggi dello spettacolo, il cantante Marco Carta, col quale Gennari ha collaborato, e il pornoattore abruzzese Rocco Siffredi. Disegno appunto sempre su questi ritratti molto esclusivi, creando appunto delle originalità e soprattutto un'irripetibilità appunto delle opere. La mostra sarà visitabile dal mercoledì alla domenica fino al 6 di febbraio.